Il mulinello Leonardo Come si potrà notare è un'operazione molto ma molto difficile da effettuare in mare con acqua formata perché alla fine ci si rende conto che magari i 100 metri che prima siamo riusciti ad avvolgere comodamente stando seduti nel salotto di casa non entrano più. A questo punto abbiamo pensato ad un sistema similare a quello che si usa nei mulinelli di pesca da traina. Quindi abbiamo messo una vite senza fine qui a doppio principio incrociato con alcuni ingralaggi collegati direttamente alla manovella di recupero. In questo modo qua e con un rapporto di trasmissione ben definito riusciamo ad avvolgere e a svolgere comodamente il filo anche stando in mare. La manopola della frizione è del tipo con funzionamento a scatti quindi addirittura si potrà ponere la pressione che si vuole e quindi la forza di traino del pesce si potrà modulare. Guardate lo svolgimento del filo come come avviene nel caso abbiamo preso questo pesce lo dobbiamo poi recuperare pian piano oppure guardate come si riavvolge il filo in maniera veloce ed ordinata. Non aggiungo altro perché credo che il filmato sia evidente.